L'entrata in esercizio è prevista tra un mese ma ormai ci siamo. I reflui di Cetara saranno convogliati tramite una condotta sottomarina al depuratore di Salerno. È il primo intervento portato a compimento nell'ambito del grande progetto di risanamento ambientale per garantire mare più pulito lungo tutta la costa per la comunità della costiera amalfitana. È una giornata storica. Finalmente si realizza un sogno non dico solo mio ma dell'intera costiera amalfitana che parlare di un paese che ha un suo condotto sottomarino, un depuratore e non scaricare più i reflui del mare veramente si è dato dignità al mio territorio ma dico all'intero territorio della costiera amalfitana. Ma risultati ambientali significativi sono attesi anche nelle acque di Salerno dove il gioco delle correnti finiva spesso col trasferire i liquami dal territorio cetarese. Ora si punta ad un mare più pulito anche in città. Finalmente collettiamo nel nostro depuratore le acque di cetare dei comuni con termine del porto quindi credo che sia un'opera indispensabile che oggi vede la luce che insieme ad altre opere previste per quanto riguarda la depurazione delle acque potrà dare al nostro mare una qualità decisamente migliore. Gli interventi sono solo all'inizio. Il piano della provincia di Salerno interesserà infatti tutta l'area costiera. Possiamo permettere in esercizio anche il depuratore di Conca dei Marini un'opera straordinaria che andremo a visitare prossimamente che è stata realizzata un depuratore all'interno della montagna proprio. Quindi stiamo realizzando delle opere molto complesse anche dal punto di vista ingegneristico.